Ciao a tutti e benvenuti su Bimbi Creativi. Oggi studiamo i rettili con questo simpatico lapbook. Ciao a tutti e benvenuti su Bimbi Creativi. Oggi vi mostro come realizzare il lapbook dei rettili. Trovate le schede scaricabili gratuitamente sul mio blog www.bimbicreativi.it. Vi ricordo di iscrivervi alla mia pagina Facebook, al canale YouTube e di seguirmi anche su Instagram e su Pinterest. Se il video vi piace lasciate un like e condividetelo. Ciao, alla prossima! Oggi vi spiego come realizzare il lapbook dei rettili. Il lapbook è uno strumento molto semplice che consente ai bambini di memorizzare più agevolmente certe nozioni. Per realizzare questo lapbook vi serviranno solo un foglio a tre e le schede che potete stampare gratuitamente su Bimbi Creativi. Quindi www.bimbicreativi.it Trovate sia la scritta da colorare che anche la definizione. Quindi i rettili sono ovipari, motivo per cui abbiamo disegnato un bel luogo. Poi potete incollare le schede e quindi scoprire tante curiosità sui rettili. Ritagliare qualche esempio di rettile e colorarlo e poi disegnare il rettile preferito. Ecco qua, questo è il nostro lapbook. Se vi piace ricordatevi di lasciare un like. Ciao! 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 Grazie a tutti